Anche se non sono medicine e non curano nessuna malattia, potreste trovare una soluzione per i vostri problemi e per quelli dei vostri cari. I dischetti aiutano solamente, e dici poco, il corpo, gli organi, le loro funzionalità a lavorare meglio e quindi in molti casi aiutano il corpo ad autoguarire dalle più disparate tipologie. Se qualcuno di noi vincesse il super in allotto, la sua vita cambierebbe, se non è uno stupido, in modo positivo, avrebbe più tempo e più soldi per mangiare meglio, mangiare bene, riposare, non dover lavorare, non stressarsi, fare vacanze, fare massaggi, fare tutto quello che non riesce a fare, una persona o no. Detto questo, la sua vita cambierà in modo positivo e anche i suoi fastidi, le sue patologie, se non gravissime, troveranno una soluzione. I dischetti fanno vincere il super in allotto al nostro corpo. I dischetti è come se, se voi foste un'auto, vi gonfiassero le gomme. Se le vostre gomme sono buone, terrete la strada in modo perfetto. Se il battistrada delle vostre gomme è rovinato, non terrete la strada in modo perfetto. Se le vostre gomme sono bucate, i dischetti non riusciranno a gonfiarle. E' questo il motivo per cui i dischetti, pur facendo le stesse cose su tutti, hanno risultati diversi. Qui sotto un elenco non esaustivo di quali sono i fastidi che si possono cercare di risolvere. Tutti i dolori, indipendentemente dalla loro causa e origine, ma anche i mali, il mal di gola, il mal di pancia, l'emicrania, le gastriti, il torcicollo, i dolori alle mani, alle dita, le insensibilità, la stanchezza al mattino, la psoriasi, la vitiligine. Questi dischetti sono indicati per curare queste malattie? No. Questi dischetti gonfiano le gomme. Se il tuo corpo è in grado di autoguarire, ce la fa. Altrimenti, no.